Mamma mia! Ehi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Io sono JD e ci troviamo in un nuovo modpack che mi avete consigliato perchè è una morta nella blastoff. Allora, vedete The Void, adesso inizialmente ci da questo a questo, però è vuota perchè sono quelli che devi prendere... Mamma mia quanto è alto il volume, aspettate aspettate... Facciamo così. Dobbiamo prendere un bottone, mettere qui, cliccaci sopra, carica il mondo... Voilà! Questo è il posto in cui siamo. Vedete ci forniscono già Lori Cobblestone Generator 2 e di qua ci sono due led cell, che sono quelle che prendono l'energia. Allora, ci da questa iniziale che dobbiamo prendere una Philosopher's Stone che è bellissima. Uno stick, un mushroom, un blow e un dark matter. Meno male che ce lo danno già. Allora, uno stick... La Philosopher's Stone. Un dark matter, pickaxe... Mamma mia, qui è inglese. E il mushroom. Allora, tutto, sì. Climber World. Mi dice... Allora, basic. Remote. Quanto è MC! Ah sì, ragazzi, vedete? È MC. Servirà per questa mod qui. La tram... Per la project. La tram smutable. Praticamente inserisci... Ve la spiego dopo che ve la faccio vedere, va. Allora, qui ci chiedono la Cobblestone. Questo piccone qua va ad RF. Però, cioè, potete usarlo tranquillamente anche per scavare. Non... Non si romperà mai. Come vedete, voi pensate, ma è già rotto. Io che cazzo me ne faccio? Te ne fai perché va RF. Più è carico e più va veloce. Quindi... Figo. E in più, avevo... L'ho aperto 5 secondi per provarlo. Ma è ancora troppo alto. Ok. L'ho provato 5 minuti e ho detto, vabbè, mi metto in creative. Vado a vedere com'è fuori, tutto quanto. E no! Perché se tu ci provi, ti fa tornare al... alla survival mode. Quindi non puoi nemmeno zittare. Se, come ben sapete, qua in opzioni, inventory, potete fare recipe. Solo recipe. Non potete cambiare cheat mode o utility mode. Quindi non possiamo fare un bel... Niente. Non possiamo balare, insomma. Figo. Allora, mi chiedeva 10 pezzi cobblestone. Poi mi chiedeva un piccone. Ecco, adesso siamo arrivati al punto. Io dico, ma ho solo uno di questi. Io non vedo altro legno che posso prendere. Come Cristo fa? Va benissimo. Mettiamo qua. Come vedete è MC. Questo qui ne vale 4. Qui fa le hand. Qui ogni pietra vale 1 MC. Io li brucio tutti e 3 e siamo 3. Non posso ancora prenderlo. Perché sono solo 3 MC. Quindi io continuo a scavare. Però basta che li prendi. Perché se non li prendi non... Guarda, sono tutti lì! Eh, sono tutti lì! Oh, va bene. Allora. Faccio così, ne brucio un altro. E fa... Posso prendermi uno stick. Quindi lo prendo. E prendo anche questo. E siamo bene a due stick. Adesso mi chiedeva il piccone. E io lo posso fare. Però in questa mod qua, come vedete, mi dice No, tu non puoi usare questo piccone. E va bene. Quindi te lo sei fatto ma non puoi usarlo. Poi fai claim reward. Abbiamo la cobblestone. Il query... Quest delivery system. Oh! E' un hopper fantastico. Allora, la prossima quest ci chiede... Io ho guardato solo queste prime 3 quest per capire bene. Fa... Tu devi... Il QDS, il QDSS. Ma comunque. Allora, devi piazzare questa cosa. Di fare select task. Praticamente ti dice. Devi inserire questo oggetto dentro quel quadratino che ho appena posto. Però prima devi fare select task. Poi come lo ci butto io dentro questo? Non lo so. Prima però devo cliccare col tasto destro. Su questo blocco. E riprovo. Non va. Allora, prendo l'hopper. Tengo shift. Faccio così. E ci butto dentro il... Mamma mia che mira di merda. Ci butto dentro il... Peccone. Adesso guardate. E' sparito. Faccio così. Climb reward. Avete capito più o meno come funziona? Se sì, bene. Se no... Rivedetevi questa scena. Apriamo il dark glass. Buono buono buono. Questa cosa... Se c'è ad esempio una fonte di lucci qua davanti. Metti il dark glass. Dietro rimane scurissimo. Infatti serve di solito per le farm di mob. Poi cosa mi chiede? Mi chiede se ho... Uno stack di cobblestone. Ottimo. E qui mi chiede una cobblestone. Facciamolo. Climb reward. Poi al camera rose and project guide. Qui dice come funziona l'MC value. Devi mettere dentro... Praticamente l'alchimia. Devi dare tutte cose che hanno lo stesso valore di una cosa. Non so se guardavate full metal alchemist. Però è figo. Molto figo. Allora. Poi cosa mi chiede? Vi fare una motion suite. O come caspita si chiama. Ed è semplice. Una delle cose basi di Minecraft. Sono sei minuti. Ottimo. Prendi. Prendi. Adesso qua mi chiede. 70 di cobblestone. Ma io dico. Che ducco. Vabbè. Sopra vi faccio vedere piano piano com'è. Perché come vedete è dalla... Dalla... Come si dice? Non mi viene. Dalla mappa che qua centrale mi da un fastidio. Non riesco a vedere. Allora. Vedete qua è bloccata la scala. Salgo. Faccio così. Pop. Esco. Esco piano piano. La rete fuori è tutto. Ottimo. Queste qui sono delle chest. Sono fantastiche. Speriamo che non ci siano nessun mob. Piano piano. Anche queste. Sono diciamo un modo davvero molto bella questa qui. Delle chest che sono fatte in modo strano. Sì. Sì. Ok. Ti muovi, ti muovi, ti muovi, ti muovi, ti muovi, ti muovi, ti muovi. Oh. Ok. Ok. Ottimo, ottimo. Prima non me le aveva date. Andiamo qui piano 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 di sopra. Che una zucca felice. Ottimo. Io qui sopra. Scendiamo. Ok. Ecco voi. Com'è qua fuori. Oh. Oh. Io sono al banner. Oh. Oh. Oh figo. Guardate quanta bella roba ragazzi. E qui c'è il vuoto. Quindi se cado sono. Cazzi. Quindi non so se mettermi la keep inventory. Serve, diciamo, una cosa molto utile. Infatti mi so che, che l'aggiungerò perché non mi va di morire e perdere tutto. Ma non ce lo potrei fare. Se sono zitti. Oh no. Non sono zitti. Comunque scusate ho dovuto mangiare. Allora. Ho preso tutta sta cobblestone qua. Quindi. Questa. 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 Allora. Sì. Questa qui. Eccola. Allora. Sì. Mi chiedeva se tanti cobblestone ma era solamente riprenderle. Mentre in queste devo buttarne 64. Uno stack. Quindi. Sopra. Diciamo. Così. Ok. Qua se l'ha preso. No. No. Che. Che è successo? Mi ha preso tutta la cobblestone? Ma io ne ho... Ah. Mi ha buttato solo s... 64 io ne sono buttati. Ah. Vabbè. Mi ha fottuto 55. Grazie tante. Ah. 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 Allora. Eh sì. Mezzo cuore ce l'ho. Flame reward. Ottimo. Ah. Non ho visto qual'era l'altra. Ah. Non credevo fosse la scelta. Comunque. Dobbiamo fare due quest book. Ok. Così qui mi danno la vita quando muoio. Allora. Fare due quest book che è un quest book a 132. Io qua ho dei blocchi da laboratorio. Questi qua fanno 128. Questo qui è 132. Quindi faccio 128. Li brucio. 128. 128. Ehm. 8. 29. 30. 31. 32. Eccolo qua. Prendo questo. E adesso così ho due quest... Book. No. Vieni qua. Quindi apro questo. Ho questo. Facciamo claim reward. Oh sì ci... Madonna santa ha un tutto. Ho troppa roba nell'inventare. No va bene comunque. Apriamola. Vediamo che com'è. Com... che com'è. Ah. 10 vines. Ottimo. Le attacco. Le att... Attacco. Così al massimo si crescono. Ne avrò di più in futuro. Va a finire che non dovevo. Ah no. Mi era venuto malissimo. Devo fare due leve. Sono proprio... Sono proprio... Hard? Che cosa mi chiede? Uno di cobblestone? Ah. Contamene... Mamma mia. Cosa faccio? Io faccio questo. Chi se ne frega. Ah oh. Almeno c'è cobblestone. Verò che posso romperla. Però... Io sono una sfaticata. Non ho voglia di fare niente. Oppalala. Ottimo. Quindi ho tutta questa pietra. Bene. Oh! Ho ho ho. Le stone shell. Non tutta... Come vedete è qua. E io basta che rompo il vetro. Me la ciulo. Faccio così. Sì. Ah. Quattro. Quattro. Non le devo prendere. Ok. Quattro. Beh sono sempre quattro. Mamma mia. Io non so per iniziare a farle. Cinque metri away. Qua. Ok. Strike incoming one minute. No. No. C'è qualcosa che non mi piace. Portal 12 metri away. Oh. Oh. Caspita. Come vedete. Ok. Rompiti. 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 Mettiamo tutto via. Allora. No. Questo mi tengo. Questo me lo tengo. Questo. Questo. Metto via. Questo. Metto via. Ok. No. Questo posso lasciarlo qua. O forse mi conviene fare così. Va che forse è meglio. Come vedete qua. All portal we need to charge to open it. Quindi io lo fare così. Che carica. Così. Che carica. Ok. Ah. Ah. No. Ah. No. 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 Io ho fatto qui. Andiamo avanti. Ciao. No. Sto per morire. Sto per morire. No. Non ho cibo. Io non ho cibo. Sì sì sì. Ho cibo. 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 Appena mi finisce la fame. Fra dieci secondi. Tanto non si può morire. Perché non è in hardcore. Cioè nel senso non... Avete capito. No. Mi rimane mezzo cuore. Anche se ho fame. Quindi intanto vado a fare altre cose. tre cosine che mi servono. Guardate che bello. Sono a 99. Ok. Cosa prendo? Prendo questo. Apriamo. Big button. Ma dove ne faccio io? Va bene. Oh. Devo uccidere 10 piggen. Questo lo facciamo nella prossima puntata. Quindi. Ragazzi. Mamma mia proprio un mostro. Se questo video vi è piaciuto. Lasciate un bel like. Commentate. Condividete. Se non siete ancora iscritti. E il canale vi piace. Iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video.